Un altro weekend di eventi a Controguerra a partire da quello di venerdì prossimo, si torna all'Enoteca Comunale e si torna con la rassegna alle 9 della sera. Sì, serata che auspico sia molto interessante questa di venerdì prossimo, avremo con ospite Simone Gambacorta che ha curato la riedizione di un libro Tempo Grande di Gianluigi Piccioli, che è un testo uscito nel 1984 che preannunciava i grandi temi tra i quali la questione della televisione e come sarebbe stata nei tempi nostri, quindi ha anticipato di gran lunga quelle che erano le situazioni mediatiche di questo nostro periodo storico. E' una serata che io penso sarà molto interessante anche perché non parteciperà soltanto Simone Gambacorta, che è veramente un giornalista molto preparato in quest'ambito, molto competente ma anche avrà l'accompagnamento di Antimo Amore e Gian Maria De Paulis, che sono anche loro personaggi, uno è un giornalista molto importante che ci accompagna molto spesso alle nostre iniziative e anche Gian Maria De Paulis molto preparato nell'ambito appunto dei media. Insomma quindi io penso sarà una serata interessante e suggestiva perché si parla di un tema che è molto alla portata dei nostri tempi, quindi vi aspettiamo venerdì sera, pressione della comunale di Controguerra, in questa serata accattivante alle 9 della sera. Il giorno dopo invece si parla di musica ma anche insomma di coinvolgimento sociale di quella che era una delle realtà di Controguerra. Sì, il giorno dopo Accademia Musica Spettacolo curata da Massimo Fava, come ogni anno a giugno c'è il saggio di fine anno dei ragazzi che appunto studiano e frequentano i corsi presso l'Istituto Spontini di Controguerra, quindi a partire dalle 17 del prossimo sabato 8 giugno ci sarà questo pomeriggio dedicato alla musica e ai giovani ragazzi che si approcciano a questo mondo e alle loro famiglie. Quindi insomma non mancate perché si preannuncia un weekend molto interessante dal punto di vista culturale e non solo della nostra amatissima Controguerra. Grazie. Grazie a tutti.